Ciao ragazzi, sono tornato per fare un filmato, per salutarvi a tutti e soprattutto per dirvi che l'estate 2014, 2 agosto 2014, tempo pugioso ma a mille, 19 gradi, fa freschino, abbiamo fatto la spesa, adesso direzione casa, ma mi raccomando ragazzi non abbandonate gli animali, principalmente i cani, i gatti, tutti i vari, tutto ciò che è inerente all'animale, non abbandonate anche le formiche, le formiche è un peccato abbandonare, la formica la prendi, la tieni in casa, ti mangia la briciolina, capito? Ma poi dopo non puoi abbandonarla, la fagli fare il suo corso di vita e poi dopo muore e va, ma non abbandonate gli animali, mi raccomando ragazzi, ve lo dico con il cuore, ok? Ciao, alla prossima puntata di Dims!